Una buona giornata dalla redazione di Florence Multimedia in studio Leonardo Bardazzi. Il traffico scorre regolare su tutta la rete stradale e autostradale toscana. A causa della pioggia prevista in aumento durante la mattinata, si raccomanda prudenza lungo tutta la rete stradale e autostradale toscana. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno per lavori di ripristino della pavimentazione stradale, restringimento di carreggiata tra gli svincoli di La Strassigna e Ginestra Fiorentina, possibili disagi alla viabilità. Ancora in Fipilì tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest in direzione Livorno, prudenza per la presenza di personale su strada al lavoro. In A1 tra Valdarno e Arezzo ha segnalato un veicolo fermo in avaria in direzione Roma. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!